Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. L'avvertenza Exilva è una vicenda che seguono i colleghi Urso e Fitto che implica un negoziato, una trattativa serrata col socio indiano a cui sono stati chiesti precisi impegni. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a margine della Zena Fest, la festa della Lega in corso a Genova. Se lo Stato si impegna, anche il socio privato si deve impegnare, ha aggiunto Giorgetti. All'esito di questo chiarimento definitivo, lo Stato prenderà le sue decisioni. È stata archiviata dal GIP del Tribunale di Taranto l'inchiesta per diffamazione a carico del segretario nazionale della Wilm Rocco Palumbella dopo la querela presentata dall'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, in merito alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista del 6 maggio 2022 al quotidiano di Puglia. La D di Acciaierie d'Italia ha tentato e pensato di potermi intimidire, di tapparmi la bocca di fronte a una situazione pericolosa per la sicurezza, per l'ambiente e per l'occupazione che riguarda un'azienda strategica per il nostro paese, ha commentato Palumbella. Nessuna azienda si era mai permessa di denunciare le organizzazioni sindacali per una critica. La gestione ha concluso, non arretrerò mai, ma continuerò più forte di prima per evitare un disastro ambientale, occupazionale e industriale senza precedenti. E' stato rintracciato il fuggitivo che venerdì 29 settembre a bordo di uno scooter era stato coinvolto assieme ad altri nell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nel centro cittadino. Si tratta di un pluripregiudicato di 35 anni che dopo essere stato bloccato dagli agenti della squadra volante è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata perché ferito al braccio da un colpo di pistola. Il 35enne è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dimesso dall'ospedale è stato accompagnato in carcere. Al momento la procura ionica ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda. Le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno di recente svolto una serie di interventi finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale. Nei giorni scorsi la compagnia di Manduri ha concluso una verifica fiscale relativa al periodo dal 2018 al 2023 nei confronti di un'impresa con sede sulla costa ionica impegnata nella riparazione, rimessaggio e alaggio di imbarcazioni da diporto. Al momento dell'intervento i finanzieri hanno individuato oltre tante imbarcazioni tra cui natanti e gommoni ricoverati per il rimessaggio. Dagli accertamenti è emerso che l'azienda ha omesso di presentare le dichiarazioni occultando al fisco redditi per circa 100.000 euro, con la conseguente evasione anche dell'imposta sul valore aggiunto per oltre 27.000 euro. I contagi da Covid-19 e il tasso di positività in Puglia sono aumentati anche nell'ultima settimana di monitoraggio da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Dal 21 al 27 settembre, infatti, i casi segnalati sono stati 1.737 contro i 1.615 di sette giorni prima. Il tasso di positività è passato dall'11,4% all'11,5%, i decessi invece sono stati 6 contro i 7 della settimana precedente. Dalla settimana prossima dovrebbero essere disponibili nuovi vaccini anti-Covid e potrà essere avviata la campagna di vaccinazione, partendo da anziani e fragili. Debutta l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto. Quest'oggi è presentato al Teatro Fusco Elisir d'Amore. Il melodrama giocoso con musica di Gaetano Donizzetti sul libretto di Felice Romani è in programma domenica 1 ottobre alle 17, martedì 3 e giovedì 5 ottobre alle 21 presso il Teatro Comunale Fusco. Dirige il maestro Gianluca Marciano, regia e cura di Maria Selene Farinelli, maestro del coro Carmen Fornaro. Bene, noi stiamo preparando, oggi avremo la prima prova d'assieme, stiamo preparando una produzione bellissima dell'Isir d'Amore di Donizzetti con l'orchestra giovanile della Magna Grecia, il coro LA Chorus e un fantastico cast di cantanti, anzi due fantastici cast di cantanti perché avremo tre recite, due saranno le recite serali del 3 e 5 ottobre e poi ci sarà il Family Concert del 1 ottobre. Noi avevamo delle idee ben precise che abbiamo cambiato proprio considerando il territorio dove ci troviamo. La Puglia è una regione meravigliosa, Taranto è una città bellissima con una storia incredibile e poi voi pugliesi siete culturalmente, linguisticamente, artisticamente talmente connotati che secondo noi dovevamo proprio cogliere la palla al balzo e trasformarla in un'occasione anche artistica proprio. Allora, noi abbiamo deciso di raccontare questo Elisir trasformando semplicemente quello che da libretto, da testo è un villaggio in una piazza, in un paese al brulicare del mattino, all'alba, Giannetta ha un bar che gestisce e di cui gestisce anche le Comari e il Pettegolezzo, Belcore è un marinaio ovviamente della Marina Militare visto che siamo a Taranto, siamo vicino al mare e dove appunto la Puglia diventa il cuore pulsante e cornice della storia entro cui i personaggi poi si muovono. Quindi la vicenda d'amore di Adina e Nemorino si svolge proprio all'interno di un paesino della Puglia durante la preparazione della festa patronale. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.